Unità didattica è dedicata alla manipolazione del database Prolog. Mediante alcune primitive che sono messe a disposizione da qualunque implementazione di linguaggio, vedete già qui sono gli assert e i retract, è possibile modificare per asserzione di nuove clausole o per ritrattamento di clausole che erano già presenti, modificare un programma Prolog. Questo lo si può fare ovviamente sia interagendo da interprete Prolog, operatore umano e programma Prolog, ma questi stessi predicati possono far parte del programma stesso e magari diventare operativi in conseguenza di operazioni di input-output che possono provenire dal mondo esterno. In queste condizioni quello che si va a implementare di fatto è un programma che può automodificarsi in relazione a quelle che sono le condizioni operative in cui si verrà a trovare. Ovviamente queste, come riportato qui in questa slide, queste potenzialità devono essere usate con misura perché possono portare ovviamente a una modifica del programma Prolog che dopo un sufficiente periodo di lavoro potrebbe essere molto diverso da quello che era stato il programma originario pensato dal programmatore. Quindi in ciò in pratica andiamo a consentire una delle caratteristiche fondamentali dell'intelligenza artificiale che è quella di costruire agenti artificiali, in questo caso i nostri programmi Prolog che possono modificare se stessi. Allora, per asserire nuove clausole i predicati messi a disposizione, come ripeto, da qualunque implementazione Prolog sono gli assert. Allora, asserire una clausola, per asserire una clausola si usa il predicato assert, close e l'effetto di questo predicato, dove close può essere o una clausola fatto o una clausola programma definita è semplicemente l'aggiunta di questa clausola al programma. Quindi dal momento in cui viene chiamato questo goal, di fatto la clausola che viene passata qui come argomento diventa una clausola aggiuntiva al programma. Dove verrà messa? Ovviamente questo è importante perché sappiamo bene che l'ordine in cui vengono scritte le clausole all'interno di un programma Prolog è molto significativo e quindi per poter... L'asserte generico è normalmente implementato facendo sì che la clausola viene inserita all'inizio del database. Con gli assert A e gli assert Z, assert Z, andiamo invece con chiarezza a specificare che vogliamo che la clausola in questione sia inserita o all'inizio con assert A o alla fine con assert Z della definizione del predicato stesso, cioè la clausola che andiamo a introdurre sarà la prima che comparirà all'interno del programma o l'ultima all'interno dell'ordinamento specifico delle clausole che hanno quel predicato, hanno lo stesso predicato nella testa, cioè nella definizione del predicato. Facciamo degli esempi, supponiamo di asserire assert Z, senza punto, attenzione, il fatto viene inserito esattamente così come lo vedete scritto Questo provocherà il fatto che il fatto son Tom Siu viene inserito all'interno del database Molto probabilmente in queste tutte le implementazioni viene inserito così all'inizio Oppure possiamo inserire una clausola in programma definita, non un fatto sempre come lo vedessimo predicato assert, però questa volta, qui è il caso dell'esempio mother XY, say son YX and female X Attenzione, senza mettere il punto finale, esattamente come avveniva nel caso del fatto della clausola fatto, però qui la clausola di programma definita va inserita all'interno di una coppia di parentesi tonde Ecco, questi sono gli esempi, vediamo l'effetto Supponiamo di partire da un database vuoto, facciamo un listing e non c'è niente, supponiamo e facciamo l'assert della prima clausola, asseriamo anche female X e anche l'asserzione circa la clausola di programma mother se facciamo il listing vediamo che abbiamo inserito in pratica un programma prolog e quindi questo ovviamente è un altro modo per inserire un programma prolog all'interno della RAM cioè per far consultare un programma prolog invece che leggerlo da un database e consultarlo mediante un pregato consulto lo possiamo semplicemente inserire in questa maniera ovviamente non è un'operazione che si fa però di fatto a questo punto noi possiamo lanciare il goal mother su Tom e rispondere a yes perché abbiamo inserito nel database questo programma se andiamo a inserire una clausola di programma che era, non esisteva la cui definizione di predicato non esisteva nel programma originario che era già sulla RAM, che era stato per esempio consultato da file beh allora non abbiamo nessun problema ma il predicato in questione viene generato in qualche maniera ovviamente inserita nella clausola di programma che abbiamo inserito con la CERT ma quel predicato che è nella testa della clausola viene sostanzialmente definito proprio in quel momento lì e viene considerato dall'interprete prolog come dinamico e cioè effettivamente si possono tranquillamente inserire i clausoli di programma di quel predicato oppure ritrattarle come vedremo fra un attimo ma se la clausola che andiamo a introdurre ha nella testa un predicato che faceva già parte, la definizione di quel predicato era già presente nel database che era nella RAM perché era quello che era stato per esempio consultato da file beh in questo caso bisogna che nel file che andiamo a definire, che andiamo a consultare quel predicato doveva essere definito come dinamico con una con una specifica da prolog da prolog è questa qui, dynamic si dà questa direttiva qui, due punti trattino, questo è il modo per dare direttiva all'interprete prolog dynamic e poi specificare qual è il predicato che si vuole eventualmente rendere dinamico e cioè asseribile e ritrattabile in maniera dinamica dal 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 programma stesso quindi adesso un altro predicato importante che si utilizza per lavorare con il database è il predicato close con due argomenti testa e corpo e come funziona? funziona in questa maniera se per esempio lo lanciamo con due variabili head body e come il nome delle variabili indica la prima la prima variabile verrà istanziata ad un alla testa di una clausola e corpo e body verrà istanziato al corpo supponiamo ad esempio di avere un predicato dinamico A con due argomenti nel nostro programma prolog e supponiamo che la definizione del predicato A sia costituita da tre clausole due dei quali sono due fatti A1,2 A3,4 e la terza clausola sia una clausola del programma definita A di X,Y se B di X e B di Y se adesso noi con questo predicato su questo con questo predicato con questo programma lanciassimo il goal close A quindi la testa della clausola deve avere il predicato A con arg1 e arg2 come argomenti e il predicato close avente come secondo argomento body la variabile body allora la la close potrebbe andare a matchare la prima clausola della decisione del predicato A quella con il fatto A1,2 e quindi la variabile arg1 unificherebbe con il primo argomento 1 la variabile arg2 con il secondo argomento e invece la variabile body la seconda variabile della della predicato close verrebbe unificata con true in quanto che questo è un comportamento per default la clausola con cui la 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 il predicato close ha unificato è un fatto e quindi il corpo è vuoto quindi body viene istanziato per default a true se adesso noi proviamo il fallimento di questa di questa soluzione il predicato close va a cercare una seconda clausola e quindi effettuare esattamente la stessa operazione con la seconda clausola se proviamo di nuovo il fallimento la clausola close va a matchare con la terza clausola e qui vediamo l'effetto che la variabile arg1 viene unificata con x la variabile arg2 viene unificata con y e questo però non viene indicato semplicemente verrà istanziata la variabile body a b di arg1 e b di arg2 questa che cosa serve questa questo predicato built in del prologue a cosa serve serve per andare a vedere se una certa clausola è già all'interno di un database eventualmente andare a prenderne gli argomenti nel senso andare a prendere sia gli argomenti che fanno parte della testa della clausola che il corpo della clausola perché eventualmente se una certa clausola esiste la si può ritrattare o la si può modificare per esempio con un predicato di questo genere potremmo andare a decidere sulla base del fatto che sono successe delle cose all'esterno del programma magari sono arrivati dei dati o faccia essere modificato o cose di questo genere andare a vedere se una certa clausola esiste se questa clausola esiste prendere gli argomenti modificarli ritrattarla come stiamo per vedere e asserirla ex novo e quindi modificare una clausola che già esiste all'interno del database la ritrattazione invece di una clausola si fa con il predicato retract retract e si dà specifico alla clausola che va ritrattata la clausola che va ritrattata deve matchare ovviamente in tutte le sue componenti quindi si utilizza per fare il matching il normale programma di unificazione che abbiamo visto all'inizio del corso per esempio supponiamo di avere questo programma per quanto riguarda la decisione del predicato P un programma di nuovo fatto di tre clausole con la prima PDA se ADA la seconda PDA se ADA BDA la terza PDA se ADA BDA e CTA se adesso andiamo a fare il retract e andiamo con la stessa sintazia che abbiamo visto prima per la CERT la specifica della clausola che vogliamo ritrattare cioè vogliamo ritrattare in una clausola P di Z dove Z è una variabile se A è di Z bene questa clausola matcha solo con la prima di queste tre clausole per ovvi motivi e quindi effettivamente matcha e quindi il prologue risponderà yes viene effettivamente cancellata dal database infatti se andiamo di nuovo a effettuare il list vediamo che quella clausola la prima è scomparsa se volevamo ritrattare tutte le clausole che avessero avuto con tutte le clausole facenti parte della decisione del predicato P potremmo utilizzare il predicato retract all specificando solo la testa della clausola che vogliamo unificare in questo caso appunto vogliamo sostanzialmente rimuovere la decisione del predicato P a un solo incremento e quindi scriviamo P di Z se facciamo il listing vengono cancellate tutte e due le clausole rimanenti se ci fosse stata ovviamente la prima sarebbe stata cancellata anche quella questo è il modo in cui si fa la cancellazione di una clausola da un database ora sia la cert che il retract sono sostanzialmente degli inserti procedurali di nuovo come abbiamo visto per l'input output l'effetto che loro hanno è un effetto che è di fatto un'azione che viene compiuta sulla RAM sostanzialmente del computer e quindi né l'assert né il retract sono per backtracking risoddisfacibili quindi in pratica se per esempio viene effettuata un assert e poi dopo l'assert c'è un fail e quindi per backtracking si ritorna su quell'assert e quell'assert non viene risoddisfatto fallisce e quindi si passa ad un eventuale goal che fosse alla sinistra dell'assert qualora questo goal venisse risoddisfatto allora si ritornerebbe da sinistra verso destra sull'assert e questo assert verrebbe rieseguito di nuovo quindi in pratica accade come accadeva nel caso dell'imputato ripeto se il controllo passa da destra verso sinistra per backtracking si ritorna su un assert l'assert non viene risoddisfatto se invece il controllo viene da sinistra verso destra e quindi c'è una nuova istanzazione per quanto riguarda ci sta percorrendo un nuovo ramo nella ricerca in profondità e quindi si ritorna sulla assert e l'assert viene risoddisfatto dunque facciamo un esempio per chiarire per aiutare a capire il funzionamento degli assert del retract supponiamo di voler semplicemente realizzare un database che contenga i risultati delle prime 16 moltiplicazioni della tabellina delle moltiplicazioni quindi 1x1 1x2 2x3 e così via fin 4x4 16 vogliamo un predicato che un predicato fai tabella che ci genera tutte queste 16 moltiplicazioni e ci va a generare un database che contiene 16 fatti per ciascuno di queste moltiplicazioni dopodiché potremmo semplicemente con un predicato stampa tabella andare a leggere il database e stamparlo come vedete qui nell'esempio sull'output qui ancora l'assert retract non c'entra niente semplicemente abbiamo creato un database ecco adesso supponiamo di voler andare a in realtà qui c'era servito l'assert adesso il retract non è utilizzato lo utilizziamo con togli dalla tabella togli dalla tabella è un predicato che corrisponde a una funzione che si vuole chiedere sostanzialmente all'utente quale di queste moltiplicazioni vuole eliminare dal database per esempio quelle che hanno come risultato 4 4 è quello che viene messo dall'input ok poi dopo di nuovo si lancia lo stesso predicato questa volta l'utente risponde 6 quindi sostanzialmente vuole eliminare tutti i fatti che corrispondono alla moltiplicazione che hanno come risultato 4 6 e dopo di che stampa di nuovo la tabella e come vedete sono state eliminate tutte le moltiplicazioni che hanno a che fare con il 4 e il 6 allora questo ovviamente è un esercizio di nessuna utilità pratica se non didattica per vedere come funziona la set e il retract come si può fare il predicato fai tabella il predicato fai tabella si può implementare così supponiamo di volerci limitare alle moltiplicazioni dei primi 4 interi una tabellina solo dei primi 4 interi per poter utilizzare tutte le sedici combinazioni cioè 1x1 1x2 1x3 e così via fino a 4x1 e 4x4 si può utilizzare il predicato member cioè l'indeterminatezza del predicato member quindi andiamo a prendere un elemento della lista L e un elemento X un elemento Y della lista L all'inizio saranno presi per X e Y per entrambi 1 nel secondo caso verrà risoddisfatto il member della Y che prenderà 2 quindi sarà 1x2 e così via e avremo tutte le combinazioni calcoliamo il prodotto e lo assegniamo a una variabile P e poi andiamo a fare un'asserzione mettendo in fondo che vengono in qualche maniera ordinati dal più piccolo al più grande dall'alto verso il basso di un fatto un fatto che ha come predicato prodotto che quindi viene asserito in maniera automaticamente dinamica perché non faceva parte del programma come vedete il predicato prodotto non fa parte del programma viene quindi asserito dinamicamente prodotto con questi tre argomenti i due fattori e il risultato della moltiplicazione dopodiché per non occupare memoria invece che fare una chiamata ricorsiva si fa fallimento quindi sostanzialmente cosa succede il fail come dicevo poco fa provoca ovviamente il fallimento si ritorna sull'assert Z che essendo un'azione e quindi viene soddisfatto solo la prima volta sul backtracking non viene rieseguito e quindi si ritorna su P P is is di nuovo come esattamente l'assert è un attachment procedurale quindi non viene neanche lui risoddisfatto su backtracking si ritorna sul member YL a questo punto si il member può essere soddisfatto per Y si prende aveva preso 1 adesso si prende 2 quindi abbiamo X1 e Y2 si ritorna giù quindi a questo punto l'IS viene effettivamente eseguito di nuovo ma è un altro è un altro non è che viene riseguito quello di prima viene eseguito un'altra un'altra attachment procedurale in cui X è sempre 1 ma questa volta Y è 2 e di nuovo viene effettuato anche quest'altro asserzione procedurale questo attachment procedurale e quindi viene asserito un altro fatto prodotto 1 2 2 e così via per fallimento sfruttando il non determinismo del member vengono esaminate tutte le 16 combinazioni fino all'ultima in cui X è 4 e anche Y è 4 e quindi avremo P is 4 per 4 P diventa 16 e viene asserito prodotto 4 4 16 dopodiché il member il primo member con X non è più risoddisfacibile questo ovviamente non è risoddisfacibile e si passa alla seconda clausola del predicato fai tabella che sostanzialmente non fa niente e serve semplicemente per terminare la lavorazione del predicato fai tabella con un successo invece con un fallimento il predicato stampa tabella che cosa fa? va a cercare un fatto prodotto XYZ e lo stampa mediante questo predicato stampa e di nuovo questo qui è un'esecuzione guidata da fallimento esattamente la stessa struttura del predicato fai tabella sempre per non consumare memoria a questo fallimento fail dovrebbe comportare il risoddisfacimento di stampa ma in realtà stampa come vediamo è costituito da uno due tre quattro cinque wright e un newline sono tutti sei attaccamenti procedurali per cui nessuno di questi viene risoddisfatto e quindi stampa non viene risoddisfatto si torna indietro si va a cercare un'altra istanzazione di prodotto e a questo punto si cerca il secondo fatto prodotto viene preso dopo il primo lo viene stampato e così via così facendo vengono presi tutti quanti i prodotti e vengono stampati in output ecco così è stata creata la tabella ed è stata anche eventualmente se è stato lanciato questo programma stampato in output adesso vediamo come funziona il retract il retract viene utilizzato all'interno del predicato togli dalla tabella vi ricordo togli dalla tabella chiedeva quale valore del prodotto non vuoi che compaia nella tabella supponiamo che l'utente dà a questo punto una risposta e quindi quello che deve fare il predicato togli tabella è eliminare dal database tutti i fatti che hanno come risultato quello indicato dall'utente allora che cosa fa il predicato togli tabella scrive appunto quello che deve scrivere in output e poi va a leggere quello che ha battuto l'utente e poi fa partire un predicato togli IP a cui passa la lettura fatta dall'input togli IP semplicemente fa il retract di ogni fatto prodotto che indipendentemente dai fattori abbia come risultato quello che era stato battuto dall'utente poi di nuovo utilizziamo sempre la struttura per fallimento perché tanto il retract non è risoddisfacibile così facendo cosa succede a causa di questo di questo fallimento del fail si tenta di rifare il di ritrattare per bettraking il retract ovviamente non è risoddisfacibile per cui si cerca di risoddisfare togli IP togli IP a questo punto viene risoddisfatto perché si fa un altro retract di un altro fatto prodotto che è presente nel database sempre supposto che questo fatto prodotto abbia come terzo argomento quello passato dalla chiamata precedente togli IP quindi questo va avanti e elimina tutti i fatti prodotto il cui terzo argomento sia abbia match con l'argomento passato a togli IP finirebbe per fallimento di nuovo questo qui allora per non farlo finire per fallimento si fa così si si mette una clausola togli IP che indipendentemente dall'argomento che avevamo passato potremmo anche mettere IP ma sarebbe stato ovviamente una variabile singleton per cui mettiamo l'underscore che è meglio e poi ci mettiamo un cat per rendere per digiungere questa clausola dalla precedente per rendere il predicato togli IP deterministico in pratica l'effetto di questo togli IP è quello di eliminare tutti i fatti prodotto qualcosa per qualcosa che abbia risultato P cioè quello che volevamo allora questa tecnica come dicevo è una tecnica che va a modificare il database e è una forma primitiva di apprendimento perché può essere usata per implementare una forma primitiva di apprendimento in particolare un utilizzo molto diffuso dell'assert e del retract dell'assert in particolare è nel caching delle soluzioni e cioè sappiamo bene che l'intelligenza artificiale ha come problema principale la complessità degli algoritmi e è spesso molto costoso in termini di tempo andare a cercare le soluzioni dei problemi allora in generale quello che si può fare se abbiamo implementato il nostro programma in Prolog il nostro agente in Prolog è questo qui supponiamo di avere quindi un predicato che implementa un algoritmo di intelligenza artificiale per esempio una ricerca nello spazio di statica abbia una complessità notevole all'atto pratico che per esempio la soluzione del problema che si lancia problema 1 si cerca una soluzione questa soluzione è molto richiede molto tempo per essere trovata però supponiamo che alla fine la troviamo possiamo lanciare il goal non dicendo al Prolog trovi la soluzione del problema 1 e restituisci maestanziando qui questa variabile soluzione ma poi ci aggiungiamo anche asserisci un predicato solve problem 1 solution cioè in pratica trovata una soluzione per un certo problema 1 noi quella soluzione la asseriamo nel database la conseguenza di questo sarà che se noi rilanciamo di nuovo lo stesso goal successivamente se prima ci aveva messo due giorni a trovare la soluzione nel secondo caso ci metterà un microsecondo e quindi sostanzialmente il programma lavorerà in maniera più efficiente troverà sempre le stesse soluzioni che aveva trovato precedentemente ma lo farà in maniera più efficiente e quindi migliorerà le prestazioni questo è anche una forma è anche un modo per implementare una forma molto semplice di case based reasoning perché in pratica ha un ragionamento basato per casi abbiamo trovato una soluzione sappiamo adesso qual è il percorso per andare da Arad a Bucharest se ci avevamo messo un tot tempo per trovarlo adesso lo asseriamo supponendo però che altri utenti siano interessati esattamente a fare la ricerca per il medesimo problema cioè andare da Arad a Bucharest è chiaro che però il prezzo da pagare se questo non accade se non ci sono altri utenti che sono interessati esattamente allo stesso problema è molto basso perché un'altra ricerca che dovesse richiedere altri due giorni che non fosse quella la stessa adesso richiederà due giorni più un microsecondo il microsecondo in più è quello che è stato necessario per andare a vedere se per caso una soluzione di quel tipo cioè una soluzione di quel problema era già stata trovata precedentemente quindi si spende un microsecondo per vedere se quella soluzione era stata già trovata precedentemente se è stata trovata la si restituisce e finisce lì e guadagno è un guadagno di due giorni se non è stata trovata due giorni di computazione se non è stata trovata precedentemente semplicemente la successiva istanza del problema richiederà due giorni e un microsecondo per essere determinata questo se ci vuole due giorni è chiaro che il vantaggio era evidente se invece il numero di soluzioni nel cassetto che sono state trovate è un milione e ciascuna richiede un milionesimo di secondo per poter essere trovata alla fine ci vuole un secondo se normalmente la soluzione del problema richiede mezzo secondo e allora a questo punto l'ingegnere capirà che fare l'assert delle soluzioni potrebbe a quel punto non essere più conveniente ovviamente sono tutte soluzioni che l'ingegnere deve risolvere lì per lì a seconda del problema che ha davanti un'ultima considerazione riguarda appunto questo che con l'assert e il retract andiamo a modificare il database sulla RAM quindi non modifichiamo ovviamente il programma per cui se il computer viene spento e poi è riacceso e si va a riconsultare il programma tutta l'esperienza raccolta dal lavoro precedente per esempio tutto il caching delle soluzioni che abbiamo fatto è perduto quindi come poter trasferire il file system beh abbiamo visto nella precedente unità didattica che per esempio possiamo un modo molto semplice per fare questo è quello di combinare il predicato listing che abbiamo visto anche in questa unità didattica che serve per mandare sull'output certe clausole di programma o tutte le clausole di programma se lo lanciamo un listing così prende tutte le clausole di programma invece lanciare il listing ma prima ridirigere l'output mandare l'output su con il predicato tel su un certo file effettuare il listing a questo punto tutte le clausole di programma comprese quelle che sono state asserite in maniera dinamica vengono salvate nel nuovo file meglio ancora sarebbe quello di lasciare su un file il programma e tutte le soluzioni trovate per esempio con la tecnica appunto del caching che abbiamo visto prima mandarle su un altro file in maniera tale da avere due file uno che contiene il programma e uno che contiene le soluzioni cioè l'esperienza che si è fatto al programma in maniera tale che se in futuro volessimo rinunciare all'esperienza perché magari vogliamo utilizzare il programma originario in un contesto totalmente diverso in cui l'esperienza acquisita precedentemente sarebbe quasi un ostacolo possiamo semplicemente fare il consulto del programma originario bene concludiamo quindi la lezione facendo proprio un esempio di questo caching supponiamo ad esempio di voler realizzare un programma che dato un certo alfabeto gli do come primo argomento al mio programma una lettera dell'alfabeto e il programma mi deve restituire la posizione che la lettera occupa all'interno dell'alfabeto lo potrei farlo semplicemente un programma come vedete qui in questa slide con un predicato alfabeto che mi lista tutte le lettere del mio alfabeto è il predicato letter il programma letter che va a prendere questo alfabeto e lo mette nella variabile c e poi lancia un predicato ricorsivo che lavora in questa maniera se la lettera che stiamo cercando è in testa alla lista dell'alfabeto allora la posizione che verrà restituita sarà 1 se la lettera in questione non è parte della testa allora la posizione restituita sarà D e questa posizione verrà risulta in questa maniera innanzitutto dobbiamo assicurarci che questa clausola sia disgiunta dalla precedente e quindi questa deve essere presa in considerazione solo nel caso che A e B sono istanziate a due lettere diverse quindi sicuramente la lettera che stiamo cercando non è la testa della lista in questo caso essa sarà parte comunque della coda dell'alfabeto e occuperà una posizione E ebbene D sarà semplicemente il risultato di E più 1 perché se per esempio io cerco la posizione della lettera D e la posizione di D non è A e quindi passa alla seconda clausola quale sarà la posizione di D? la posizione di D sarà la posizione che D occupa nella coda dell'alfabeto e nella coda dell'alfabeto D occupa la posizione 1 2 perché la coda dell'alfabeto è la lista che va da B fino a Z e quindi in questa coda D occupa la posizione 2 e la posizione che occupava nell'alfabeto originario sarà 2 più 1 cioè 3 allora se noi lanciamo il il predicato letter y quindi cerchiamo la posizione della lettera y quindi questo qui questo predicato verrà si chiamerà ricorsivamente però attenzione questa non è una tail recursion è una ricorsione a tutti gli effetti quindi non viene tradotta in una iterazione e quindi che cosa succede succede che c'è una chiamata appunto ricorsiva che arriverà fino alla ventitresima chiamata a questo punto si trova la posizione della y al ventitresimo no alla venticinquesima chiamata chiuso scusa per cui nel nella nella successione delle chiamate ricorsive avverrà la la l'istanziazione di d a e più 1 e quindi vedete l'effetto che si avrà e cioè che questa d che sarebbe la d della ventitresima interazione viene stanziata a 23 più 1 e quindi diventa 24 la d della quattresima iterazione viene stanziata a 24 più 1 fino all'ultima in cui la d viene stanziata a 25 e e quindi la variabile post viene stanziata con viene unificata con la d che è il terzo argomento del predicato lettera a tre argomenti e quindi viene restituita la posizione e questo ovviamente è una è una ricerca lunga quello che noi possiamo semplicemente fare è lanciare lo stesso programma di prima facendo l'assert a così la mettiamo all'inizio del risultato trovato asserendo cioè una clausola che ha il medesimo nome del predicato che rappresenta la soluzione del nostro problema e con esattamente gli stessi argomenti con cui l'abbiamo lanciato in pratica l'effetto sarà che quando viene trovata la soluzione viene asserito anche il fatto letter y 25 se adesso lanciamo di nuovo il predicato letter y questo goal matcha immediatamente con questa clausola quindi non parte il programma ma viene asserito viene risposto semplicemente che y è 25 dopodiché se ci mettiamo un un cut qui rendiamo la cosa deterministica e per cui non viene non verrà più cercata un'eventuale altra soluzione per y se non ci mettiamo il cut e non interessasse all'utente questa soluzione 25 ne volesse cercare un'altra ovviamente il caso che abbiamo in esempio non risponde a questa ipotesi non avrebbe senso ma se in generale noi volessimo trovare un'altra soluzione per il medesimo problema e quindi quella di cui era stata fatta la cache non ci interessa non mettendo il cut per il soddisfacimento si andrebbe a questo punto di nuovo a far partire il programma normale che ci metterà tutto il tempo che ci deve mettere per trovare eventualmente un'altra soluzione bene con questo concludiamo questa unità didattica dedicata all'aggiornamento alla revisione alla modifica del database prolog